Buongiorno Alessandro, come sta andando questa esperienza a ospitali di Design Expo? È la prima volta che partecipiamo a questa fiera, quindi dopo un giorno e mezzo non è facile avere delle misure esatte. Il mercato è abbastanza particolare, ma questo lo sapevamo. È difficile l'approccio, molto 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 difficile. Non è come nelle fiere in Europa, dove è normale uno sta nello stand e arrivano i clienti. E sono loro che qua, come lei mi aveva suggerito, bisognerebbe prendere il cliente in corsia, prenderlo fisicamente, portarlo dentro. Ma che tipologie di contatti ha avuto? Principalmente Interior Design, il contratto, il tipo di contatto che cerchiamo. Quindi da quel punto di vista va benissimo. Come dicevo prima, appunto è difficile l'approccio perché poi succede anche che entra dentro l'architetto giusto, molto importante, non dà neanche modo di minimo di soddisfazione di spiegare l'articolo, di scegliere, di prendere delle qualità che se voglio quello, quello e quello, ho fatto tutto da solo. Quindi è molto difficile, è molto diverso l'approccio. Magari è anche più facile così, se ne capitano altri, è un piacere. In questo momento se doveste pensare a un vostro ritorno, la considererebbe una opzione possibile? Di norma io, come le dicevo, io rifaccio fiere da 41 anni e secondo me una fiera va fatta per almeno tre volte consecutive per avere una reale misura, pensando quelle che uno capisce fin dall'inizio che è sbagliata. Probabilmente va rifatta, sì. Va rifatta, insisto, nelle mie teorie, almeno per tre anni. Grazie molte. Grazie a tutti.